Che cosa significa usare il paradosso in psicoterapia? Parlare di paradossi non è facile, è un po' paradossale. Questo perché il paradosso è di per sé un qualcosa di difficile, ambiguo, strano, particolare da spiegare. Penso semplicemente al paradosso di paradossi, il paradosso di Epimenide da Creta. Racconta la storia che Epimenide disse che tutti i cretesi sono bugiardi. Ma dato che lui era un cretese, se stava dicendo il vero, non era vero che tutti i cretesi erano bugiardi. D'altro canto, se stava dicendo il falso, lui stava mentendo perché era un bugiardo. Mi trova un casino se c'è il dito, no? Però la cosa interessante è che i paradossi avvengono anche a livello pratico, a livello comportamentale, nella vita di tutti i giorni. Negli anni 50 Gregory Bateson e il suo gruppo di studio, conosciuto come la famosa scuola di Palo Alto, andarono a studiare come i paradossi avvengono nelle interazioni di tutto il giorno e possono creare dei veri e propri problemi. Un paio di esempi. Se io ti dicessi comportati spontaneamente, tu non potresti più farlo. Perché se non ti comportassi spontaneamente, non saresti spontaneo. Ma se ti comportassi spontaneamente, lo staresti facendo perché io ti ho detto di farlo. Quindi non è un comportamento spontaneo. Un altro esempio che ci fa meglio capire come il paradosso può avvenire in maniera problematica all'interno della nostra vita è quando tu chiedi ripetutamente aiuto a qualcuno per fare qualcosa. La persona che ti aiuta ti sta comunicando due cose. Da un lato ti voglio bene, ti aiuto, sono qui con te, sono qui per te. Dall'altro ti sta comunicando tu da solo non sei in grado. E volta dopo volta questa comunicazione è un po' come l'acqua, la goccia che scava la roccia e mira la tua sicurezza. In questo tipo di paradossi ci andiamo a incarpare quotidianamente durante la nostra vita. Il problema è quando appunto diventano quella goccia che scava la roccia e crea un problema. Gli studiosi della Pia Breve però hanno visto come il paradosso potesse essere utilizzato anche a fini terapeutici. Ad esempio, se tu poni un comportamento sintomatico sotto il tuo controllo, non lo rendi più sintomatico. Un esempio che puoi usare anche nella tua vita quotidiana. Ti presenti quando c'è qualcuno che sta ridendo e tu gli dici basta ridere e la persona sembra non riuscire a tratterersi e a ridere ancora di più. Ecco, se tu provi a dirgli, dai dai continua a ridere, continua a ridere, vedrai che la sua risata pian piano si smorzerà. Lo stai inducendo a mettere sotto il controllo volontario qualcosa che dovrebbe essere spontaneo come una risata e quindi la spegni. A un altro livello, se sei una persona per esempio che arrossisce facilmente in pubblico, se provi a sforzarti di arrossire ancora di più o di arrossire volontariamente, ti rendi conto che non ci riesci, che il rossore smette di arrivare. Quindi, in definitiva, il paradosso, l'uso del paradosso, non è nient'altro che un tipo di intervento, un tipo di tecnica, un tipo di strategia che può essere usato all'interno della terapia e che viene spesso usato nelle terapie brevi, per velocizzare e massimizzare l'efficacia di ogni terapia. Non c'è niente di cui aver paura, si chiama paradosso, è una cosa che può ammettere un po' di inquietudine, ma in realtà è qualcosa di semplice e utilizzato ormai da... fin dagli anni 20, credo, 30, dell'anno 200, probabilmente anche prima. Ciao e al prossimo video! Quinto video sul paradosso Certo, non è il quinto sul paradosso, il quinto video, video sul paradosso.